Non si può, non si può, non è possibile, cioè tutte le volte ne esce una Ma voi direte, perché sei chiuso per l'ennesima volta dentro la tazza del cesso? Perché ogni giorno ne esce una, ogni giorno ne esce una Stiamo senza terzini a destra, sabato c'è sta Roma-Inter Ma chi ci andiamo a mettere sulla destra? E io qua vorrei fare una specifica nel dettaglio di come la Roma si è comportata su questo mercato estivo Che sembra veramente, visto che ci hanno detto che siamo un supermercato Ma io aggiungerei tipo l'angolo rotture della Lidl Perché che cosa è successo? Vi assunto molto rapido Vogliamo un terzino a destra di prospettiva Perché Bruno Perez, insomma, a scorsa stagione Non è che è stato tutto sto granché Che cosa fai? Ti vai a comprare Karsdorp dal Feyenoord Un giocatore di prospettiva Perché sì, diciamolo, sembrerebbe veramente questo Però non è che si rompe Perché se fosse rotto, dici, vabbè, la sfortuna No, la Roma sapeva che se doveva operare E che quindi probabilmente sarebbe riuscito a recuperarlo per la prima del campionato Se opera e tutto quanto Ovviamente il giocatore non recupera Vabbè, pace e pazienza Florenzi, discorso numero due So due volte che se opera Sta recuperando Ovviamente è un altro terzino Che tu comunque non puoi utilizzare E su cui non puoi fare Fede Dici, vabbè, tanto c'è Bruno Perez E che te frega Prima del campionato Bruno Perez Inciampica sopra una lumaca Non si rialza più Scocciato completamente Manco uno svaroschi Se scocciava col basso Finito Bruno Perez Allora dici, vabbè, ma tanto Ma che te frega C'hai Nura Che comunque è giovane È de prospettiva È nigeriano Ecco appunto, ragazzi I miei allenamento Nura è inciampicato sopra un filo d'erba Non si è rialzato più manco lui Scocciato 6-8 settimane out Io adesso mi chiedo e vi domando Ma noi sabato contro l'Inter Come giocavo? Chi ci va a metà testa? Perché ho sentito voci che vorrebbero Che Di Francesco potrebbe provare A metterci Manolas Manolas ha fatto danni al centro L'altro giorno Che se c'è stato a One Jesus Io non lo so quello che poteva succedere Tu me la metti a destra Ma non Ma stiamo a scherzare Ma stiamo a scherzare io spero E poi soprattutto Che te vado a sentire? Di Francesco potrebbe sperimentare La difesa a 3 Lasciate per Di Francesco con la difesa a 3 Ragazzi è come Zeman Che gioca con la difesa a 5 È a 7 È impossibile Cioè Io non so quello che devo pensare Io non so quello che devo pensare Ma conoscendo Spalletti Secondo me lo sapete che cosa succede? Che quello Invece di giocare con i terzini a sinistra e a destra E con i centrocampisti esterni a sinistra e a destra Quello gioca con tutti i terzini sulla sinistra In modo che noi sulla destra col buco Se mettono di patrimino E ci fanno Finisce Finisce Veramente Io non so quanto potrà finire Ma Rimango qua Rimango qua Io Se continua così Non mi alzo più Faccio lo sciopero No lo sciopero della cacca No perché quella Fa veramente troppo Ma ragazzi Mi fate sapere che cosa Mi pensate nei commenti di questa situazione Secondo voi come giocherà la Roma E vi lascerò un sondaggio in questo momento Per chiedervi Come finirà Roma Inter Senza Antersina A destra De vuolo Ma chi c'è Ma chi c'è Ma chi c'è Ma Senti Vi saluto La finisco qua Manco vi chiedo i like Bella